L'integrazione dei ragazzi disabili con i compagni normodotati attraverso lo sport parte da questo obiettivo dieci anni fa, il progetto Disabili e Sport del CSI che in questi anni ha raggiunto lo scopo e che oggi, forte dei risultati ottenuti, lancia una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le persone che vogliono sostenere quello che è diventato un progetto pilota in Italia. Per contribuire è possibile collegarsi al sito buonacausa.org e fare una donazione. Il progetto negli anni ha coinvolto più di 20 scuole medie e superiori, tra i maggiori sostenitori, il Panathlon. È un progetto che le scuole continuano a chiedere e soprattutto si continua a sostenere. Questo è importantissimo perché senza questo tipo di progetto anche i ragazzi disabili nelle scuole non potrebbero, non dico fare educazione fisica perché lo fanno già con la propria classe, ma non ci potrebbe essere delle lezioni adattate proprio per le loro potenzialità. A ideare la nuova campagna l'agenzia Labirinto che cercherà di diffondere il progetto con un testimonio ad eccezione, il capitano della Nazionale Amputati, Francesco Messori. Una pagina dedicata al progetto su buonacausa.org per far sì che chiunque, dal singolo cittadino all'associazione, all'azienda, abbia voglia di fare una donazione, digitando nella chiave di ricerca Sport Anch'io, ha la possibilità con pochissimi click di fare una donazione e quindi in questo modo di aiutare il progetto in maniera concreta.